Mi chiamo Mattia, ho 23 anni ed ho deciso di andarmene a piedi a Madrid. Sono nato in mezzo alla campagna, a Scaltenigo, un piccolo paesino di Mirano in provincia di Venezia. Sono sempre stato un ragazzo abbastanza tranquillo, forse un po' vivace, sì, un po' vivace, sì. E le mie più grandi passioni sono l'arrampicata e il mare. E mentre i miei idoli arrampicano su cose o pareti impossibili, oppure esplorano gli oceani alla ricerca e alla scoperta dei loro misteri, io ho deciso di andarmene a piedi fino a Madrid. Avrò una pagina Facebook, Aspasso per l'Europa, dove potrete seguirmi, un sito web www.aspasso.eu e pubblicherò dei piccoli video giornalieri dove vi dirò quanti chilometri ho fatto, se ho incontrato più more o più bionde e se i preti che hanno deciso di ospitarmi hanno provato ad esorcizzarmi oppure no. Quindi ci sentiamo presto al prossimo video. Ciao!